Il maltempo che ha investito la regione molise in questi ultimi giorni ha nutrito le pagine della cronaca visti i molteplici incidenti stradali che si sono verificati. Proprio nelle ultime ore un rocambolesco incidente si è verificato in via 24 maggio a Campobasso all'altezza della farmacia comunale. Tre le auto coinvolte di cui una, una polo bianca, a causa del forte impatto e probabilmente dell'asfalto bagnato si è completamente ribaltata. Sul luogo il 118 i vigili del fuoco e la polizia municipale fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti nella zona traffico in tilt. Solo una settimana fa un'altra auto si era ribaltata nel capoluogo all'altezza di San Giovannello. Inoltre oggi pomeriggio verranno i celebrati a Venafro i funerali di Gabriella Riccio, la sfortunata trentenne che martedì sera ha tragicamente perso la vita nei pressi di Cepagna. Centinaia di venafrani in queste ore hanno raggiunto la camera mortuaria del Ferdinando Velenziale di Isernia, dove la giovane donna giace avvolta nei veli bianchi dell'abito da sposa che in eterno indosserà nei giardini del paradiso. Inconsolabile il dolore dei familiari, estrema la commozione degli amici. Ferite ma non corrono pericolo di vita le tre persone, una famiglia di Cassino, a bordo dell'altra vettura, una Lancia Ypsilon. Al momento dell'impatto l'asfalto si presentava viscido in conseguenza della pioggia caduta pochi minuti prima.